signori e signori benvenuti siete qui negli studi di canale 100 la radio per il nuovo programma due amici in comune realizzato in collaborazione con l'ufficio relazione col pubblico del comune di bari detto anche urb buongiorno 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 e adesso ci sentiamo un po di musica ma state con noi allora prima di tutto dobbiamo dire che c'è una grande novità in realtà non è freschissima è da un qualche mese ma bene ribadirlo visto che l'ultima novità dell'urp vero gabriella con il nuovo appalto abbiamo aperto uno sportello tematico tutto dedicato alla ripartizione patrimonio la casa dei bambini e delle bambine come si fa per accedere noi suggeriamo di chiamare il numero unico del welfare 5777777 oppure di rivolgersi al proprio al segretariato sociale del proprio municipio una cosa molto bella che fanno in questo in questo centro è raccogliere e mettere a disposizione di tutte le famiglie che ne hanno bisogno oggetti per i bambini e per poterli donare comunque conviene sempre prendere contatti con il numero unico e quindi mettersi d'accordo su come fare queste donazioni parte oggi una bellissima collaborazione con l'informa giovani del comune di bari è uno sportello ulteriore offerto ai giovani cittadini del comune di bari attraverso l'informa giovani i giovani entrano anche nell'ufficio delle relazioni con il pubblico quindi conoscono questo ufficio e cosa questo ufficio può offrire per loro perché comunque anche se sono giovani possono sicuramente avere bisogno di un documento di identità magari proprio per andare all'estero o un certificato o qualunque altro tipo di informazione dei servizi che il comune mette a disposizione anche dei giovani di cinema qui si parla tanto e allora abbiamo pensato che questo era il momento giusto per parlare dei mestieri del mondo del cinema certo e quindi oggi con noi abbiamo carmelo angelico grazie mi state elogiando è un dato di fatto è un dato di proprio all'urp ha fatto una cosa ma bella tu ti sei presentato come un funzionario della della commissione europea se voi volete venire a lavorare per la commissione europea niente di più semplice laureati o non laureati nessun problema dovete essere un cittadino del del dell'europa avere una certa conoscenza di almeno una seconda lingua straniera questo è fondamentale essere qualificati a livello professionale a secondo degli esami che ci sono